E' una commedia che parla proprio degli odi, quelli più nascosti, quelli condominali, perché io e mia moglie facciamo la festa esagerata per nostra figlia che compie 18 anni, e a Napoli, insomma un po' tutto il sud, quando i figli compiono 18 anni si fanno delle feste veramente eccessive, se non che poche ore prima dell'avvenimento muore un signore al piano di sotto, per cui si comincia con la cosa, il povero uomo, fino a che, ma come mai è morto proprio oggi, ma l'ha fatta apposta, insomma cominciamo a odiare il povero uomo che è morto, e' una commedia appunto sugli odi che scaturiscono dai nostri sentimenti più nascosti, quelli più profondi, non l'odio raziale, non l'odio di religione, non l'odio per il diverso, ma l'odio per chi è più simile a noi. Risponde benissimo il pubblico calabrese, molto caldo, molto, molto affettuoso, sono, il calabrese, molto uscito di calabrese, non so, è timido, il calabrese è timido, mi piace. L'Italia del futuro! Mamma mia, mamma mia! Buongiorno!